Noi non ho mai parlato del taxi Sì, non vado a fare. Ma non ho mai parlato di un'altra cosa Ma oggi ho visto che mi serve E' un po' di due, 7 euro Ma non ho mai parlato di un po' di due Ma non ho parlato di un po' di due Di due siete euro Ocque è il blu L'occupazione sociale E' un'ottima Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Oh, marzo. Dov'è? Eh, no, non gli ha risposto. Un po' di istituzionale. Ecco, ma che ne la voglia? Buono, buono. E quindi, perché non approfittare per festeggiare il Comune Anno nelle spalle da Marneto? Cosa da Marneto? Pianca, e in comunione, ecco, ma che sti andiamo, e come ci e ne puoi restare dal ringrazio? Rielma! Rielma, i calma, i calma! Sant'accordo a te! Tanti auguri a Elena Tanti auguri a te! Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti